Cisinta, il voto è sommato pubblicitario anche perché le posizioni non hanno partecipato al voto. Come interpreta questo oggetto di difendere la riforma però abbandonando l'audo? Sì, è una contraddizione. Oggi per Moffaricone è una giornata storica. Abbiamo voluto sottolineare che questa scelta è stata fatta a seguito di due mesi di valutazioni molto concrete che non sono solo di tipo politico ma anche di tipo giuridico e economico. Noi oggi abbiamo affermato la volontà che ci sia una pressa, che la volontà che il Comune possa autodeterminarsi nelle scelte. Riteniamo che siano sottolineati dei principi costituzionali e noi riteniamo anche che la città debba essere difesa. Questo è il principio assieme a tutta la discussione che comunque è emersa, le motivazioni che in aula abbiamo fornito di tipo tecnico ma anche di tipo diciamo di gestione poi della situazione. E questa è la motivazione forte che ha voluto, ha fatto sì che la società fosse questa. Morrette così di prima chitta dice questo comunque un atto a nulla, Moffaricone che può fare come vuole. Sì, dopo sale, le sciocchezze si moltiplicano a volte. Ci sono delle norme, ci sono delle sedi dove possono essere impugnati gli altri. E noi staremo ovviamente a vedere in questo momento. L'Aula è approvato, diventerà esecutivo con la sua pubblicazione. E' chiaro che fa riflettere il fatto che l'opposizione nel momento in cui, anziché, come dire, mentre ha sostenuto delle cose durante il dibattito, anziché sostenerle effettivamente con il voto, ha preferito prendere le borse e sloggiare dall'aula lasciando nessuno a votare no. Cioè questo è stato un voto di plebiscito, è un sì di 16 persone.